E mentre i maturandi sono impegnati con gli esami orali, c'è chi a 50 anni esatti dagli esami di Stato torna tra i banchi di scuola per rivivere le stesse emozioni. È un'emozione che mi colpisce profondamente e sono contento che abbiano risposto con lo stesso affetto tutti i partecipanti della classe e che abbiano capito che il valore, il legame dell'amicizia è veramente quello che ho cercato di sintetizzare in quel piccolo prologo come forza atomica che tiene uniti le forze e le teste di ciascuno di noi. Non ci sono rivalità, non ci sono leader, ognuno è libero di partecipare o meno al nostro gruppo. È una chat costituita 30 anni fa alla quale abbiamo partecipato e partecipiamo tutt'oggi tutti quanti con la massima disponibilità ed allegria. Ci ha fatto piacere verificare con mano che la scuola è un valore, lo era 50 anni fa e lo è ancora adesso.